Un test importante stasera contro la Tonnocalli Pocalabria Vibo Valencia, al di là del risultato comunque un percorso di crescita per voi dopo la bella vittoria contro Latina. Grazie, sì assolutamente, usciamo dal campo con note positive, abbiamo fatto un bellissimo primo set dove le consegne tattiche sono state rispettate, poi piano piano purtroppo per una squadra giovane qualcosina abbiamo perso di concentrazione, ma dal punto di vista tecnico e tattico sono contento. Dal punto di vista caratteriale ho visto molte volte abbassare un po' troppo la testa quando sappiamo che il valore della squadra che avevamo avanti è superiore al nostro, quindi dovevamo stare tranquilli quando prendevamo quel filotto al servizio, il nostro campionato si caratterizza per molte più battute al salto-flot, non tante battute al salto potenti come nella categoria dell'A2, quindi dovevamo essere un pochino più tranquilli. Ma ripeto, sono contento perché ho avuto anche delle belle risposte dai giocatori che venivano dalla panchina. Un giudizio globale invece sulla Tonno Calipo Calabria Vibo Valencia già affrontata nel precampionato, che giudizio dà dell'avversario di oggi? Sicuramente nel cambio palla è un'altra squadra, in riferimento a quello che abbiamo trovato mesi fa, molto più precisa, molto più veloce, si vede un miglioramento notevole. Per quanto riguarda la fase punto, erano forti già all'inizio, continuano ad esserlo.